C'è chi sulla navetta cerca di salirci a sbafo e chi invece non riesce a farlo pur pagando il biglietto. Storie di ordinaria follia sulle linee urbane lucchesi. Protagonista nel primo caso un 32enne che non solo cerca di fare il portoghese, ma quando viene scoperto spedisce all'ospedale un dipendente Vaibus che cerca di multarlo. L'episodio risale al 9 novembre scorso, ma nelle ultime ore i carabinieri hanno concluso le indagini indagando a piede libero il manesco passeggero con le accuse di minacce, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Secondo le accuse l'uomo sulla linea 19 del servizio urbano che collega San Vito al centro ha colpito il controllore con un pugno facendogli sbattere la testa contro l'estintore a bordo della navetta. Succede invece che sulla linea 16 alle 7 e mezzo del mattino molti studenti non riescano a salire sull'autobus pieno zeppo, un copione che si ripete ormai sempre più frequentemente e che già lo scorso anno aveva creato non poche polemiche. Ora però il dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica Antonella Giannini scrive direttamente al CTT Nord per segnalare il ripetersi di disservizi sulla linea 16 e chiedendo di predisporre mezzi adeguati per far salire a bordo tutti gli studenti.